Stream sniperare gli youtubers all'interno di StumbleGuys per 24 ore, è possibile? La risposta è assolutissimamente sì! Siamo qua all'interno di Youtube e mi sono creato appositamente ragazzi un account completamente fake chiamato SpottyGlass che non c'entra assolutissimamente nulla E dobbiamo andare a beccare qualche youtuber di StumbleGuys che attualmente è in live ragazzi perché io non so ne prenderò a caso naturalmente Non possiamo stream sniperare Sparks che ha 1500 spettatori è letteralmente impossibile Ma qualche youtuberino piccolo con pochissimi spettatori qualcuno come noi naturalmente ci fingeremo inizialmente suoi fan Infatti andiamo proprio a scrivere ciao bro sono un tuo grande fun ok vediamo un po' come ci risponde Ok raga vediamo un po' ho inviato il messaggio SpottyGlass ciao bro sono un tuo grande fan ciao Ok ok ci ha letto ci ha letto ci ha letto ci ha letto ciao bro e gentilmente fai i server Scriviamo irvati anche perché devo sembrare un fan diciamo molto piccolo che non sa scrivere Vediamo un po' vediamo un po' se ci legge ragazzi Facilmente fai i server privati si da adesso inizio Ok ok ragazzi ci siamo Vediamo un attimo cosa mia intanto vabbè un giusto Ci siamo vamos Come si fa Comunque dai inizio a startare i server privati Ok 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 Già dato il codice raga è 39364 L'unico problema è che naturalmente dobbiamo cambiare il nome con FanFleon In questo modo crederà che siamo dei fan Ma in realtà ragazzi siamo degli stream sniping super super stream sniper Perdonatemi super super cattivi Il codice è 39364 Ora clicchiamo su unisciti raga Vediamo un po' se siamo con lui Stai per lui ritirato il gruppo e Vamos ci siamo Ci siamo raga ok siamo con altre tre persone Il primo sarebbe Fleon che è il loster Un altro che si chiama Antonio Onore12 E gli altri siamo noi Gli stream sniper Raga preparatevi Ah ci ha startato ci ha startato ci ha startato Vamos Signori IceX Una roba del genere Vamos subito Dove è dove è Fleon Dove è Fleon Dobbiamo trovarlo subito Raga Fleon lo leggete voi Voi leggete Fleon Io non leggo Fleon ancora ragazzi Non leggo Fleon Dove 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 Porca miseria l'ho perso L'ho perso Fan di Fleon dove sei Raga non riesco a trovarlo Eccolo 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 Pugno Primo pugno tirato Primo pugno tirato ragazzi Vamos 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 non cadere Non cadere Non cadere Bam Secondo pugno Secondo pugno tirato Vai Raga No raga Vi giuro che stream sniper Secondo me gli amici su StumbleGuys E' la cosa più divertente Che ci sia un altro pugno ancora Porca miseria Ok vediamo un po' quando salirà Vediamo un po' quando salirà E li teniamo un altro ragazzi Eccolo 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 Dai dai Vieni qua vieni qua Fleon E boom Un altro pugno ancora non l'ho schivato Ok andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Ora pugno Ora pugno Pugno Buttato di sotto Sto buttato di sotto Ci siamo Oh mio dio Ora l'aspetto qua L'aspetto qua No porca miseria L'ha schivato L'ha schivato Vieni qua vieni qua Fan di Fleon E pugno Un altro ancora raga No vabbè Voglio Sono veramente curioso Di vedere quale sarà la sua reaction E pugno ancora Ragazzi Mi sto pisciando da ridere Vieni qua Vieni qua vieni qua Pugno Anche in aria No raga Bellissimo Bellissimo Però per fortuna Non si è qualificato Non si è qualificato Non ci credo Ok andiamo subito A vedere qual è stata La sua rea Allora ragazzi Qua è quando praticamente Il game stava startando Il primo pugno Primo pugno Perché Fan di Fleon Mi ha dato un pugno Ok Ok E ora Un'altra volta No bellissimo Un'altra volta Bellissimo raga Bellissimo Calma un po' Bellissimo Oh fra Fra Basta No raga bellissimo Potete vedere per colpa di questo Io non mi riesco a qualificare E questo è solo l'inizio Per colpa di Fan di Fleon Non mi riesco a qualificare Continua a dare i pugni Continua a provarci Bellissimo raga Continua Questo mi ha buttato giù No raga Se io per colpa di questo Non mi qualifico Veramente sclero Rompo tutto raga Ok Ok E ora raga Che caspita succede ora Che caspita succede ora Non avete idea Comunque penso che mi qualifico Ancora Ancora Chat Che raga questo si chiama Fan di Fleon Ma mi dai pugni Cioè si finge il mio Ma basta No bellissimo raga Bellissimo raga Ancora in bollo con sto pugno No raga Cioè per colpa di questo Non mi sono qualificato Non l'ho fatto qualificare Non ci credo Ma mi sono qualificato Per colpa di uno Che si chiama Fan di Fleon Ma mi dai pugni Non ci credo Ma è normale Sta roba raga Ma non è normale Che io non mi qualifico Per uno che si chiama Fan di Fleon E dai pugni No bellissimo Bellissimo E naturalmente Non termina qua il prank Cioè ho senso 232 Ok ok Non termina qua il prank Perché facciamo subito Un altro server privato Scriverò E allora Eh Please Fai i server Privuti Su Stoom Blu Please Anzi scritto guys Proprio così Dai 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 Leggi il mio messaggio Leggi il mio messaggio Fai i server privati Sì 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 Adesso faccio i server privati Ok Ci siamo Raga Raga ci siamo Dopo che fa questo game Sicuramente andrà nel server privati Quindi preparatevi Perché stiamo Per stream sniperare L'youtuber All'interno di Istanbul guys Ci siamo raga Ci siamo raga Li sta saltando Li sta saltando Li starta Li starta Ok Ragazzi Allora dobbiamo essere veloci A mettere il codice Dobbiamo essere veloci A mettere il codice Ok Ok raga 933 93344 Ok Subito 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 93344 Raga Mi ero dimenticato di fare la cosa più importante Cambiare il nome Perché sennò giustamente il vero Kadi potrebbe riconoscermi Sicuramente mi riconoscerà Quindi andiamo a mettere come Nome di Istanbul guys Fan di tube Ok ragazzi Clicchiamo su gratis Perfetto Ora il nostro nickname è fan di tube E aspettiamo che appunto starti questo server privato Sì sì dimmi se vi è privato Dimmi se vi è privato Ok Partito Partito Sì 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 Oddio Vai vai raga veloci veloci Il codice è 37545 Subito 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 Allora Fermi fermi 3 7 5 4 5 Unisciti Ok 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 Stai per Ci siamo Ci siamo Guardate qua Guardate qua Allesco 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 Fan di tube Più tube Yt che sarebbe praticamente ospite E lui siamo pronti a stream Sniperarlo Mi preparo subito con il pugno Raga Non vedo l'ora di vedere che Caspita succederà Quando starta Muoviti tube Voglio giocare Voglio stream Sniperarti Voglio renderti le cose impossibili Ha startato Ha startato Ci siamo Siamo ok L'unica pecca che siamo contro altri 32 player Che non conosciamo mai Il nostro intento È solo quello di avvicinarci a tube Raga Diventerà letteralmente possibile Vamos Dai 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 raga Questo potrebbe uscire il video più epico Della storia di stumble guys Ok Siamo all'interno di spin Go round Vediamo un po' dove tube Dove tube raga Non lo trovo Non lo trovo raga Tube yt dove caspita sta Lo vedete voi lo vedete raga Non lo vedo io No ragazzi L'ho perso No raga è impossibile L'ho perso Dove caspita è andato Tube dove sei Da qualche parte Eccolo 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 ragazzi Ok Ora ci avviciniamo a lui Ci avviciniamo a lui Molto semplicemente Tube Tube vieni qua da me Vieni qua da me Vieni qua da me ragazzi Non lo faremo mai arrivare Perfetto 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 Ci siamo Vediamo la pugni Sì Sì Vai 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 Perfetto raga Perfetto Oh mio dio Oh mio dio Non ce l'ho fatta davanti L'ho preso di nuovo Pugni No raga Mi sto sfisciando Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo non ci credo Vieni qua vieni qua vieni qua No porca miseria Porca miseria Vieni qua dove Pugno 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 Raga non riesco a prenderlo Non riesco a prenderlo Non riesco a prenderlo No Eliminati Va bene Vediamo un po' Quale sarà stata la sua reazione Ok raga Teoricamente Mi sa che avrà sclerato raga Avrà sclerato Vediamo un po' la sua reazione Ah io che lo prendevo a pugni Vediamo un po' raga Sono curioso Sono curiosissimo Ok Ok Teoricamente Come avvicinavo io Sì raga Teoricamente ero dietro di lui Ero quasi dietro di lui Eccolo Eccolo Fatti tu per via No raga Allora Ok Ma che cacchio succede Ok raga Vediamo un po' mentre lo prendo a pugni Ragazzi Ma è incredibile Continua a buttarmi giù Ok Ok Non ci credo Non ci credo Non ci credo raga Allora Un altro pugno Ma cosa fa Ma basta Basta brother No Dovresti aiutarmi Non farmi cadere Come un pollo Bellissimo raga Bellissimo Godo che sei caduto Brother Bellissimo Purtroppo qua Non sono più riuscito Praticamente a prendere la pugni Ma entriamo nel secondo server E trolliamola ancora di più Raga Qua è veramente difficile Stream sniper Solamente allo start Possiamo farlo Eccolo Lo vedo già Lo vedo già Lo vedo già Sì Sì Pugno 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 Vamos Vamos Lasciamo dietro Lasciamo dietro Lasciamo dietro Ragazzi Lasciamo dietro Vai 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 No Bellissimo ragazzi Bellissimo Ragazzi Stream sniper I vostri amici Di Stumbleguys Penso sia la cosa più divertente Nel mondo Ok vai passa Doob Tranquillo Passa che ti butto giù Vai che ti butto giù Vai che ti butto giù Pugno di nuovo giù No raga Troppo bello Troppo bello Troppo bello Fighissimo Pugno Pugno Cliccate subito Sul tasto rosso Iscriviti Noi ci becchiamo domani Ora è 19 quarto Per il prossimo video Ci becchiamo domani Bella boys It's a